Per ordine del podestà sono proibiti tutti i ragionamenti. Berardo provvide ad affingere il cartello in alto sulla facciata. La sua condiscendenza ci sballordiva assai, ma poi Berardo disse «Quello che il podestà ordina da oggi io l'ho sempre ripetuto. Con i padroni non si ragiona, questa è la mia regola». Tutti i guai dei cafoni vengono dai ragionamenti. Il caffone è un asino che ragiona. Perciò la nostra vita è cento volte peggiore di quella degli asini veri che non ragionano. L'asino irragionevole porta 70 kg di peso, oltre non porta. L'asino irragionevole ha bisogno di una certa quantità di paglia. Tu non puoi ottenere da lui quello che ottiene dalla vacca o dalla capra o dal cavallo. No, nessun ragionamento lo convince, nessun discorso lo muove. Ora, lui non ti capisce. Oh, finge di non capire. Ma il caffone invece ragiona. Il caffone può essere persuaso. Può essere persuaso a digiunare. Può essere persuaso a dar la vita per il suo padrone. Può essere persuaso ad andare in guerra. Può essere persuaso che nell'altro mondo c'è l'inferno. Benché lui non l'abbia mai visto. Vedete, vedete le conseguenze. Guardatevi intorno. Guardatevi intorno e vedete le conseguenze. Un essere irragionevole non ammette il digiuno. Se mangio, lavoro. Se non mangio, non lavoro. O meglio, neppure lo dice. Perché allora ragionerebbe. Ma agisce così, per natura. Pensa un po' se gli 8.000 uomini che coltivano il fucino invece di essere asini irragionevoli cioè addomesticabili cioè convincibili cioè esposti al timore del carabiniere del prete e del giudice fossero invece veri sommari completamente privi di ragione. Il principe potrebbe andare per elemosina e cosa ci impedisce ora di strappare quel cartello che ci hai portato e strangolarti a morte? Ce lo può impedire solo il ragionamento delle possibili conseguenze dell'assassinio ma tu, di tua mano hai scritto su quel cartello che da oggi, per ordine del potestà sono proibiti i ragionamenti. Tu hai rotto il filo al quale era legato la tua incolumità.